Prima battuta a commentare la partita perché volevamo un giudizio del direttore, noi dagli spalti abbiamo visto una partita tutt'altro che bella, secondo Auteri non è stata una brutta partita, volevo sapere la sua interpretazione. Una partita normale, una partita normale dove potevamo sicuramente fare qualcosa di più, siamo stati poco pericolosi, quelle poche occasioni che sono capitate dovevamo sfruttarle. Auteri ha detto un'altra frase molto indicativa in conferenza qui da noi poco fa, ha detto Iacobucci è un buon portiere e noi cerchiamo un portiere. Noi cerchiamo un portiere, come ho già ripetuto, vediamo, ci sono due o tre profili che stiamo seguendo, vediamo chi arriverà a Pescara. Iacobucci potrebbe essere il favorito, diciamo così. È uno di quei tre che stiamo magari valutando, vediamo nei prossimi giorni. Sulla partita è arrabbiato per non aver passato il turno oppure ci può stare, la Coppa Italia interessa meno del campionato? No, dispiace, dispiace perché volevamo passare il turno. Un conto è dispiacere, un conto sapere se è arrabbiato. Beh, è arrabbiato, dispiaciuto, mettetela come vi pare. Volevamo tutti passare il turno, è andata male e purtroppo era importante per tanti punti di vista, per tanti motivi passare il turno. Non l'abbiamo superato e dispiace. Cosa è mancato secondo Matteassi? Mi dispiace, magari è mancato molti giocatori, purtroppo non erano tanti che non giocavano da tanto tempo, hanno fatto fatica e poi, ripeto, ci sono capitate alcune occasioni che dovevamo sfruttare meglio. Io do l'auricolare perché non l'abbiamo utilizzato, quindi lo può utilizzare il direttore Luca Matteassi. Massimo, così potete dialogare e ti può ascoltare per le domande da studio appena mi dà l'ok che sente. Matteassi, perfetto, vai Massimo. Io intanto saluto Luca Matteassi, a me non è piaciuto affatto il Pescara, ma questa è una mia opinione, per carità Luca, non me ne voglia, insomma. Però io ho visto, per esempio, se parliamo di occasioni, allora, Ianes nel primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Diambo, che aveva soffiato molto bene, aveva scippato il pallone a Mungo. Sì, quello di Diambo. È d'accordo, però poi, insomma, mi pare pochissimo, pochino, ecco, non dico pochissimo, però pochino, negli ultimi 21 minuti... No, no, ma hai perfettamente ragione. Eh no, negli ultimi 21 minuti, recupero compreso, un tiro solo in porta da fuori di Pompetti. Dovevamo fare molto di più, soprattutto quegli ultimi 20 minuti, è vero. Perfetto. Si è molto arrabbiato Massimo, il direttore Matteassi.